Gli stupidi trucchi delle bolle fatte con la grafica computerizzata sulla ISS mostrano la falsificazione che dura per tutto il giorno, baby! Conoscete tutti Chris Hatfield, giusto? Che alla fine ci porterà sulla Luna! Che alla fine ci porterà sulla Luna! Sì, è lui! Siete in grado di dire la differenza fra la realtà ed un'immagine generata da un computer? C-G-I Muovendo il bicchiere lo sfondo cambia Semplice scienza Lo stesso si può applicare se fosse una bolla d'acqua Adesso andiamo a sguazzare sulla ISS e vediamo che succede L'immagine dello sfondo nella bolla non combacia con lo sfondo effettivo La bolla mostra una piccola versione dell'intero schermo capovolto con un filtro tondeggiante sopra essa Che viene ritagliato in forme circolari per simulare il movimento della bolla Potete vedere inoltre che non c'è profondità nella bolla Grazie a tutti! 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 Grazie per la visione!